Fabbriche aperte, un modo anche per capire le competenze necessarie alle imprese per poter migliorare, poter essere sempre più competitive. Oggi abbiamo un tasso di occupazione che ha raggiunto picchi mai visti negli ultimi 40 anni e questo è sicuramente merito degli imprenditori che continuano a investire, continuano ad assumere persone perché continuano a fare profitto grazie alla qualità dei loro prodotti. Certamente però c'è un tema, un tema della qualificazione professionale per alcuni lavori che oggi purtroppo rischiano di scomparire a seguito della carenza di persone che li eseguano. Allora qual è stato e qual è il compito sia dal governo nazionale sia dal governo regionale? Cercare di capire quali sono i gap, cioè i buchi all'interno dei quali gli imprenditori hanno bisogno di persone e capire come fare a fare in modo che la cultura di impresa, la cultura del lavoro ritorni a permeare le famiglie. Spiego nel dettaglio, non tutti hanno le attitudini di studiare matematica, ingegneria, fare medicina. Qualcuno può esprimere il loro talento, il proprio talento all'interno di professioni manuali, quindi tornare a fare l'operaio specializzato, tornare a fare l'artigiano. Noi abbiamo bisogno di queste persone, anche il governo se ne sta rendendo conto e sta delineando un percorso che porterà a creare ITS e porterà a creare più persone che si occupano di lavori manuali. La Germania ci batte nettamente, noi siamo veramente indietro e questo preoccupa sia la politica sia le imprese. Fabbriche Aperte ha fatto anche capire ai giovani, anche alle famiglie, ai genitori o anche ai nonni quanto sia importante e soprattutto pulito il lavoro dignitoso, il lavoro che si viene svolto all'interno delle fabbriche. Oggi le fabbriche sono delle architetture elettroniche e tecnologicamente così avanzate che non è più la fabbrica di Charlie Chaplin dei primi anni del Novecento. Oggi una fabbrica è realmente un posto all'interno del quale si sta bene, si è pagati anche adeguatamente rispetto alla propria professionalità e pertanto l'appello che Fabbriche Aperte ha fatto ai cittadini che hanno visitato gli imprenditori che hanno deciso di aprire le loro fabbriche è proprio questo, cercare di capire che abbiamo bisogno di lavoro anche manuale e lavoro manuale ha la stessa dignità del lavoro umanistico o matematico. Grazie. Grazie.